Tutti i pazzi per la polenta di Pettorano sul Gizio, pioggia, freddo e nevischio non hanno fermato la 58esima edizione della Sagra che si è svolta ieri in uno dei borghi più belli d'Italia, fra buona cucina, musica, aggregazione e bagno di folla. L'annuale atteso appuntamento ha richiamato turisti da tutta Italia, soprattutto da Napoli, Roma e Pozzuoli, ma non sono mancati nemmeno i pettoranesi sparsi all'estero. C'è chi è tornato da Venezuela, chi dal Canada perché alla polenta non si rinuncia nemmeno con il freddo e la pioggia. E' una tradizione mugna e cazzariei. E' una polenta che la mangio tornando dal Venezuela con molto piacere. Io sono tornato dal Canada la prima volta d'inverno perché me ne sono andato nel 1166 e lui andò in Venezuela prima di me. Questa è una bellissima festa, è una nostra tradizione. Eccellente, ogni anno partecipo anche perché in effetti i complimenti a chi ha organizzato. I pozzuoli? Com'è questa polenta? E' buona, buonissima, grazie. Venite tutti gli anni o è la prima volta? No, è la prima volta che veniamo. E' un borgo bellissimo, veramente uno dei migliori, dei più belli. Buonissima. Venite, noi da Roma, ma ho casa qui da diversi anni, da 15 anni. Buona, buona. E' la prima volta. E' molto buona, l'ho assaggiata ieri. E' buona. Il maltempo ha messo a dura prova la sagra, ma non ha scoraggiato la folla di turisti e visitatori che, nonostante il nevischio e la mancanza di gazebo, non si è scomposta, saputo affrontare anche l'imprevisto e cattivo tempo. Tutto questo grazie alla prologo di Pettorano sul Gizio, guidata dalla Presidente Anna Paola Fasolia e gli stancabili volontari che hanno unito le forze. L'edizione 2020 ha segnato anche il debutto della crema dei Mugnoli, un'altra specialità di Pettorano, la cui valorizzazione vede il trade union tra prologo, comune e condotta per linea di slow food. Che rievoca esattamente la ricetta tipica di Pettorano sul Gizio, quindi anche con le acciughe. Ed è la stessa crema che si utilizza nei Mugniel e Cazzeriel. I Cazzeriel sono degli gnocchetti acqua e farina. E con questa crema si potrà direttamente condire ben quattro piatti di pasta ed è un'idea che serve più che altro per rilanciare questo prodotto che è a rischio. I piccoli produttori, tanti artigiani, quindi riunirli sotto magari la chiocciola di slow food che è comunque riconosciuta a livello internazionale. Sono contenta perché comunque questa sagra che è arrivata alla 58esima edizione conferma il tour che ha sempre avuto, il trend di persone che ha sempre avuto. Quindi nonostante pioggia, neve, ci abbiamo sempre tanti affezionati. È cresciuta, è cresciuta bene, devo dire, grazie anche all'apporto dei contributi da parte del Comune perché, come sapete, ogni anno noi eroghiamo una modesta somma, però anche quella importante, per contribuire alla riuscita dell'iniziativa. È una sagra del Paese, oramai Pettorano è contraddistinto a livello regionale per questa particolarità. Un applauso a tutti i cittadini che alimentano questo evento e che, insomma, rappresenta un unicum nello scenario regionale. 58 edizioni, credo che sia tra le sagre più antiche, se non l'unica, la più antica di questa regione che va preservata e tutelata.